Sono stata contattata da questa lista mista, quindi fatta da ambientalisti civici, di cui ne faccio parte con Scelta Civica, e riformisti, parliamo dell'area socialista. La cosa mi è piaciuta molto a partire dal fatto che si chiama Uniti per le Marche, in effetti abbiamo presentato oggi la nostra candidatura, sia io che il mio amico e collega, nonché capogruppo regionale di Scelta Civica, Dennis Sansuini, l'abbiamo presentata qui nella sala del Comune di Pesaro per dimostrare che vogliamo effettivamente dare il nostro contributo portando voti, diciamo così, diversi all'interno di questa lista in aiuto a Luca Ceriscioli, Presidente. I punti essenziali programmatici del suo programma? Sì, io parto dal concetto di vicino alla gente, come cita il mio slogan, quindi aprire degli sportelli di comunione tra il candidato, che poi grazie agli elettori diventerà appunto consigliere regionale, e la cittadinanza, cioè i votanti, gli elettori che mi voteranno non dovranno essere mai soli o abbandonati nelle loro richieste di aiuto, per qualsiasi sia il fatto quotidiano di cui abbisognano.